Ciao, cari follower, un terremoto sta colpendo la Sicilia in questo momento in Italia e un importante monito per milioni di cittadini. Prima di guardare questo video, non aspettare prima di sostenerci con ammirazione e condividere le informazioni con tutti in modo che il beneficio si diffonda. L'intensità del tremore è di circa 2,7 della scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2,7 è classificato come terremoto, molto lieve, ed è descritto come segue, generalmente non viene avvertito, ma viene registrato dai sismografi. Allo stesso tempo, lo scienziato olandese Frank Ogrebitz continua i suoi severi avvertimenti al bacino del Mediterraneo, in particolare a quello orientale e persino a quello occidentale, quindi bisogna sempre stare allerta, poiché la maggior parte delle previsioni del mondo olandese sono corrette, anche se a lungo termine, quindi è sempre necessaria cautela, e ricorda che prevenire è meglio che curare. E questi deboli tremori possono portare a un terremoto più forte nel prossimo periodo, chissà, quindi cerca sempre di seguire le informazioni pubblicate da World 8 solo per quanto riguarda l'affollamento e la prevenzione, e anche ogni altra importante novità di cui in seguito vi daremo notizia. Infine, buona salute!